A Fano l'estate di turisti e fanesi dal punto di vista dell'intrattenimento e delle proposte culturali si presenta come una manovra a tenaglia. Da una parte l'amministrazione comunale con i suoi quasi 220 e dall'altra la proloco di Fano che ha proposto sabato scorso nella sala ipogea della Memoteca il suo calendario di manifestazioni. Un programma ricchissimo che va a arricchire ulteriormente il ricco programma delle attività dell'estate fanese a dimostrazione che questa è una città vivace e si ha la capacità di offrire un ventaglio di opportunità per l'accoglienza dei nostri turisti ma anche per l'accoglienza dei nostri concittadini. Anche questo è un programma per tutte le età, per tutti i gusti e sono sia numericamente tante iniziative ma anche di qualità. Un accerchiamento al quale difficilmente ci si potrà sottrarre e quindi non rimarrà che restare a Fano come suggerisce l'invito celato nel nome del programma Restate Fanese che per questa stagione presenta capisaldi e manifestazioni ben rodate ed altre nuove di zecca. Tra i debuti da evidenziare Village for Family che riguarda il turismo familiare a cui la città di Fano strizza l'occhio, vista anche la bandiera verde con 7 eventi a Torrette di Fano creati per la famiglia in collaborazione con Torrette Promotion. Sono molto orgoglioso di aver presentato questa mattina un programma di eventi che è fatto veramente dal succo del volontariato della città di Fano. 31 associazioni che ogni anno si mettono all'opera per creare veramente qualcosa di forte ed importante. Poi quest'anno abbiamo inserito l'Arena BCC che è veramente un teatro che sta mostrando un grande carattere soprattutto per la rassegna provinciale che saranno 10 compagnie che si esibiranno ma anche per altri eventi, una collaborazione con il Teatro della Fortuna per portare questo teatro vicino alle persone che frequentano l'Arena BCC, la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini quindi veramente una bella stagione. E poi la peculiarità di Torrette Village for Family, quindi un brand creato dagli operatori del territorio un brand importante che dà visibilità delle manifestazioni che vengono realizzate lì compreso la Notte dei Desideri che sarà la novità dell'anno 2016. Il Comitato Provinciale è fiero e soddisfatto di rappresentare una Proloco come questa per l'impegno soprattutto dei volontari ma anche per il pacchetto di proposte che si è venuta a sviluppare qui oggi. E l'altra cosa che ci terrei a dire, l'impegno, le Proloco sono enti di promozione turistica e ora che comunque sia le amministrazioni comunali che le associazioni di categoria credano un po' di più al valore e all'impegno delle Proloco.